Infatti colgo proprio l'occasione per ringraziare questi personaggi dello spettacolo che si sono prestati a sponsorizzare e a promuovere la nostra manifestazione. È una manifestazione che ha già la sesta edizione, quindi ha una sua storicità, è nata proprio come un aspetto prima benefico per la panoripodistica perché aveva subito un furto in sede e poi dopo l'abbiamo lanciata per tutta la comunità a favore di queste associazioni che sono importantissime per il territorio ternano. Quindi il tempo sarà sicuramente a nostro favore dal punto di vista meteorologico. Si prospetta una bella festa di sport, solidarietà e spettacolo.